Il comune di Pordenone ha presentato il Cammino di San Cristoforo, un percorso turistico da gustare a piedi o in bicicletta che attraversa il capoluogo e 24 comuni del Friuli Occidentale, tra scenari naturali, spiritualità, arte e gusto. Sito web e app dedicata suggeriscono diversi itinerari da scoprire, ma ognuno può programmare la propria gita secondo interessi e tempo disponibile. Il progetto di San Cristoforo è un progetto articolato e complesso che mette in evidenza quelle che sono le bellezze naturalistiche di un territorio molto vasto, 260 km, che si snoda su due assi, dalla Pedemontana, da Stevenà sino alla Pedemontana e dall'altra parte sino a Spilimbergo, attraversando le steppe dei Magredi. L'obiettivo centrale è appunto la promozione di un turismo lento, sostenibile e esperenziale che unisce il nostro territorio e che con l'inserimento di queste due nuove tappe, la 7 e la 8, che hanno come fulcro Pordenone, stazione di arrivo e di partenza, contribuiscono ad avvalorare ancora di più la nostra città. In calendario anche una decina di uscite organizzate, a piedi o in bicicletta, promosse dal Comune assieme agli enti turistici. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info.pordenone.com.it www.pordenone.it